Punto è a capo. I bambini della scuola dell'infanzia della San Giovanni Bosco, dopo qualche mese passato nei locali dello stabile Cicchetti di San Lazzaro, all'inizio del nuovo anno scolastico potrebbero tornare nella vecchia e storica sede della San Giovanni Bosco, lato via 24 maggio, ovvero nella parte dello stabile più nuova e quindi teoricamente più sicura. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve da Palazzo San Francesco e farebbe seguito all'esame delle offerte pervenute dopo il bando del comune in cui si chiedevano ai privati manifestazioni di interesse per l'affitto di locali dove ospitare le dieci classi della scuola dell'infanzia della San Giovanni Bosco. Classi che a dire il vero negli ultimi anni, dopo il terremoto del 2009, hanno fatto su e giù tra lo stabile Cicchetti e la vecchia sede di via 24 maggio. Ma sono sempre più forti le indiscrezioni sul fatto che il sindaco da Polonio e l'assessore Sonia De Toma, dopo aver constatato che le offerte in arrivo c'erano state, ma si trattava di impegnare per diversi anni soldi di un bilancio già sacrificato, avrebbero alla fine optato per la soluzione più economica, ovvero fare lavori di riattazione alla vecchia sede e far tornare lì i bambini, considerando anche che, entro un paio di anni, dovrebbe essere terminato il cantiere dello stabile a Tiguo alle elementari di zona San Leucio, una scuola sicura in corso di realizzazione con le più moderne tecnologie antisismiche. Tra le offerte pervenute due in particolare sembravano abbastanza appetibili, il nuovo stabile in costruzione nei pressi del supermercato Lidl e l'immobile a Tiguo al centro commerciale in piazza, che avrebbe destinato a scuola i locali al piano terreno. Ma entrambi i privati, nelle loro offerte, avevano tutti vincolato il comune ad almeno cinque anni di contratto, bene al di là quindi della fine dei lavori della scuola sicura di San Leucio. Insomma, alla fine, una scelta finalizzata a tutelare in qualche modo le finanze di Palazzo San Francesco già abbastanza malandate. Si può parlare comunque di un'occasione persa per Isernia, particolarmente in riferimento allo stabile in costruzione di fronte all'Idol, dove una scuola sarebbe stata ospitata per intero nel migliore dei modi, con una palestra interna e dove c'era anche un finanziamento di 5 milioni a tasso agevolato da parte dell'Inail per le scuole sicure. Ma nelle casse di Palazzo San Francesco i soldi sono pochi e bisogna fare di necessità virtù. Questa la considerazione finale che avrebbe fatto optare per il ritorno in via 24 maggio.